scusate ho fatto tutto ciò per voi vi ho regalato una piccola canzoncina te stai inventato ma di che cosa perché ho in mano un'arma contundente no contundente conto un capello e cos'era quella luce era questa eccomi qua una piletta che vi consiglio di portare sempre con voi perché se va via la luce o state in una situazione di pericolo c'è sempre questa che vi può salvare quindi questa è fighissima e mi potrei definire tipo ponzo pilato sia perché sono un po pilato sia perché so un po con la pila battutine stupide per diciamo darvi quella piccola piccolo umorismo prima di insultarvi un pochino perché voi umani come al solito non è che siete stati troppo bravi un po vi devo sgridare come al solito no ponzio pilato è ponzio pilato proprio quello che ha detto me ne lavo le mani ecco noi ci abbiamo da lavarci le mani però proprio a gesù poverino il più buono di tutti che è venuto a salvare tutti lui se ne ha lavato le mani ma come quello lo dovevi difendere ci ha provato un po e non è che non ci ha provato ha detto preferite lui o barabba barabba era quello cattivo che stuprava faceva di tutto rubava omicidi e che hanno detto quegli altri umani è una cosa da fare non credo quindi un po se siete parenti di quegli umani un po vi devo sgridare dice ma tu che sei non sei umano vuoi che c'ho la faccia domani un po ma magari mi devo un po tirare però no faccia domani no è non cominciamo a insultare adesso cominciamo a parlare sempre dello stato sociale ripetiamo sempre che la cosa più importante perché mi basta solo questa che passi non ci devono essere più tasse tranne per le tasse sulla transazione ogni volta che qualcuno paga qualcosa solo con monete elettroniche niente più contante lo stato preleva un pochettino e abbiamo risolto tutti i problemi tutti i problemi certo perché il lavoro sarà per tutti perché adesso le aziende non assumono più perché c'è un grave grave peso da pagare di tasse di imposte ecco questo deve essere proprio stoppato che si stoppa solo così l'ho data io questa situazione perciò è molto importante ecco adesso tutto il resto che ho da dire non me lo ricordo più però c'è tanto da dire fidatevi tanto da dire io faccio dei piccoli pezzettini perché non vi posso dire tutto quello che devo dire che adesso non mi ricordo però adesso cerco di ricordarmelo e ve lo vado a dire ecco una cosa importante non bisogna più giocare in borsa no gioco d'azzardo una cosa terribile diceva dove li mettiamo i nostri soldi ecco si può mettere no se ci sono brave persone che fanno delle aziende solide che danno lavoro ad altri no e producono cose che servono allora uno può investire in quell'azienda però a patto che non ritira subito i suoi soldi speculando no perché mi compro quell'azione poi mi arrivendo subito no 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 hai comprato quella cosa te la tieni almeno un anno diciamo perché tu hai comprato quell'azione perché credi nell'azienda e ti serve per dare lavoro a qualcuno cioè tu compri un qualche cosa che c'è non compri solo azioni da comprare rivendere perché oscilla il prezzo non si fa più così le cose devono essere allora bisogna lavorare poco ma ma quel poco che si lavora bisogna fare cose fatte bene non solo ipotesi virtualità niente virtualismo solo nel computer che servono no era meglio non avere tutta sta roba con computer eccetera così che ci rovina la vita tutto il giorno a formattare a fare backup di che che non se non farai le foto non le vedrai mai nella vita però insomma almeno ti vedi questi video me che ti fa video ti fanno un po ridere e soprattutto ti fanno capire che tutto sommato tutte le cose che costruiscono gli umani tipo il pettine non è che servono più di tanto no la pila però sì perché questa no ti illumina ti illumina se dobbiamo parlare degli illuminati no è tutto un discorso no gli illuminati stanno al potere con le banche eccetera illuminati perché hanno conoscenza ma chi è illuminato può essere buono o cattivo la conoscenza può dare bontà cioè può essere diretta verso il bene o verso il male noi preferiamo il bene il bene di tutti bene pure nostro perché se uno fa bene all'altro poi ti ritorna e tu vivi in un posto dove tutti fanno il bene per questo che le persone se vogliono se vogliono venire a vivere nelle nostre nei nostri paraggi cioè nel nostro stato diretto da noi montato la testa queste persone devono essere brave anche se sono dei poveracci che però hanno voglia di studiare di distruirsi noi gli diamo la possibilità anche gratis importante che siano poi brave persone e non siano sciagurati che si trastullano quelle strade dando fastidio rubando eccetera questi non li vogliamo quindi tutti questo questo falso buonismo no per prendere tangenti dello stato come abbiamo visto adesso quello che è successo il roma capitale la mafia di roma che facevano i parcheggi perché le stazioni come si chiama dove stanno gli zingari no e ci lucravano da morire no non vogliamo questo se gli zingari vogliono stare siano benvenuti ma devono lavorare produrre qualche cosa anche se lavorano poco però non devono andare insomma devono essere prima di tutto puliti se noi offriamo dei posti dove devono stare gli zingari questi posti devono essere mantenuti bene non tutta immondizia da tutte le parti no non vogliamo questo sicché come dicevo l'altro giorno ci deve essere un posto per tutti perché il signore il dio ci ha messo su questa terra e tutti gratis devono avere un piccolo alloggiamento con la propria famiglia però senza dar fastidio agli altri un alloggiamento pulito con decoro non deve essere tutta una catapecchia no non vogliamo questi le persone che sono così nascono come animali perché gli animali non hanno bisogno di avere una decenza da umano no loro dove vogliono far pipì fanno pipì dove vogliono fare cacchina fanno cacchina dove si vogliono accoppiare si accoppiano non gli interessa niente chi c'è ecco questi tipi le persone che sono un po più basse di livello queste hanno diritto pure loro ad esserci ma noi abbiamo diritto pure ad essere rispettati e a vivere con decenza da umani quindi queste persone signori miei devono andare in dei posti designati dove si ammucchiano la e fanno quello che vogliono perché pure loro hanno diritto di fare quello che vogliono basta che non danneggiano gli altri cioè noi col pettine che ci pettiniamo non serve mica tanto però se voleva di pettinarsi senza da fastidio agli altri ecco già se c'è la forfora questa comincia a uscire invece ti pulisci e non dai fastidio nemmeno con la forfora quindi abbiamo detto basta più basta borsa e non si gioca più in borsa lo stato deve essere uno stato perfetto come vi ho detto uno stato sociale perfetto dove le cose che tu hai non perdono valore no quello che costa quello che è costa e la tua valuta sarà pure fra vent'anni non avrà oscillazione di borsa quello che hai 100 mila euro in banca sarà pure fra cento anni questo perché perché non è che pochi furbetti che giocano in borsa e hanno il potere di capire di manovrare quei poveracci che li fanno giocare no che non sanno niente di borsa tanti vanno così a allo sbaraglio ecco questi questi furbetti fanno i soldi ma quegli altri li pagano perché purtroppo non hanno conoscenza noi leviamo il problema leviamo quella che è la borsa e già siamo un passo avanti no ci leviamo pure dal da tutto quell'inganno della bce quello che che tutta la banca centrale europea che che ha prestato i soldi dello stato e lo stato prende i soldi paga un tasso la poi richiede a cittadini coi botte i cittadini danno i soldi e si indebitano lo stessi perché loro prendono un po di soldi ma sono loro che li pagano e come li pagano con le tasse è tutto un circolo vizioso brutto noi vogliamo circoli virtuosi per essere virtuosi ci vogliono persone al governo che siano virtuose e quindi sono pochi cerchiamo di trovarle ma con questo vi saluto col pettine ciao ciao